Eccoci qua, signori e signori, benvenuti in questo nuovo video, questa nuova intervista. Io vi porto sempre solo qualità quando vado a intervistare le persone. Oggi abbiamo un modello, un influencer, abbiamo una persona fortissima nel suo campo, Marco Delia. Presentati pure. Ciao a tutti, ciao Edoardo, grazie mille per la presentazione. Ogni tanto se guardi in giù è perché vedo la tua faccia verso il basso, quindi non è perché guardo in basso. Vai tranquillo, vai tranquillo. Sì, abbiamo fatto molto insieme, quindi diciamo che c'è un bel po', c'è un bel po' da raccontare, da tantissimo che non ci vediamo e abbiamo cambiato, abbiamo tutte e due scelto strade per una carriera diversa, insomma. Ottimo, ottimo. Raccontati un attimo chi sei, cosa fai nella vita, perché lo fai. Allora, io in questo momento diciamo che lavoro principalmente con i social media, quindi creo contenuti online, su YouTube, ho un podcast, un blog che in realtà l'ho chiuso circa un paio di settimane fa, perché mi sono proprio stancato di fare, proprio di scrivere articoli, ma sto continuando comunque con i social, i TikTok, Instagram, eccetera. E poi sto puntando molto anche su il mondo della moda, della recitazione, e quindi diciamo che sta andando molto bene anche lì. Quindi in questo momento quello che faccio è questo, finché c'è il lockdown non c'è molto da fare che stare a casa e continuare a migliorarsi e fare contenuti online, ma appena si riapre si torna anche a lavorare, quindi sempre in questo mondo della moda. Ottimo, ottimo. Dunque tu hai iniziato, diciamo così, la tua carriera da sportivo, hai fatto nuoto per una decina d'anni immagino. Anche un po' di più forse. Per quanto tempo l'hai fatto te? Io ho 12 anni, qualcosa del genere agonistico. Ho smesso quando avevo 18 anni. Io ho fatto 10-11 anni e ho iniziato anche quando ero piccolino, sempre alla Leo Sport, a Villafranca. Sì, sono di peschiere, facevo a Villafranca perché ho fatto le scuole lì. Ci sono fatto liceo linguistico a Villafranca, per poi studiare a Verona, all'università. All'università cosa facevi? Ho fatto comunicazione a Verona, quindi Scienze della Comunicazione. Anch'io l'ho fatto per 10-12 anni, nuoto, e poi a 18 anni ho smesso anch'io. Penso che ai 18 arrivi quel momento in cui tutti si chiedono, ma ne vale la pena fare 12 anni. E quindi anch'io ho smesso e ho iniziato subito a fare altro. Ottimo, ottimo. E 18 anni ti sei buttato nel mondo della moda? Hai iniziato a fare i modelli, immagino quasi da subito, o è stato un processo un po' più graduale? Ma in realtà è stato un processo un po' più graduale, nel senso che sai quando smetti muoto, prima di tutto mangi come se stessi muotando ancora, e quindi ingrassi sicuramente. E c'è stato un momento come tutti in cui mi sono rimpilzato di cibo. Era anche finito, avevo venduto la moto, avevo una moto, ho avuto una moto per quei quattro anni, e l'ho venduta. Poi fatalità, i miei genitori avevano un po' qualche problema economico, quindi diciamo che in quel periodo si è accumulato tutto, e mi sono ritrovato a non avere niente. Quindi c'è stato un breve periodo oscuro, proprio in cui ero molto giù, e successivamente mi sono pian piano tirato su, e ho iniziato un giorno, mi sono alzato, mia madre è stata anche male, mia madre ha avuto una grave malattia, e un giorno mi sono alzato, ho detto basta, oggi devo fare qualcosa. Continuavo tutte le sere a uscire, andare proprio tipo in discoteca. Sai quando sei in un periodo giù, in cui l'unica cosa che fai è uscire, esci perché è l'unica cosa che ti diverte, che ti toglie un po', ti distrae. E quindi tornavo a casa la mattina, anzi al pomeriggio tornavo praticamente alle 11 di mattina, tornavo, facevo orari assurdi, stavo svegliato tutta la notte. Un giorno mi sono alzato, ho detto basta, devo fare qualcosa, e ho iniziato a comprare libri, ho iniziato a comprare un sacco di libri di finanza personale, libri di crescita personale, ho iniziato il mio percorso di crescita personale, ho iniziato a uscire a orari decenti, e ho incontrato una ragazza che mi ha inserito nel mondo della moda, e da lì è iniziato tutto. Ok, per chi hai sfilato? Se c'è qualche magari nome importante per cui hai sfilato? Allora, diciamo che dato che il nuoto ci ha comunque offerto queste spalle e questa schiera molto ampia, non ho, diciamo, nel mondo della moda funziona che ci sono dei modelli che possono sfilare per brand molto alti, dimmelo se non si sente più per la connessione. No, no, vai, 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 tranquillo. Però sono molto magri, servono modelli molto magri. Noi invece che siamo ex nuotatori abbiamo, diciamo, una curatura già robusta, e quindi più che sfilate ho fatto altri tipi di lavori. Però ho fatto anche lavori per alcuni brand abbastanza grossi, ho lavorato anche per Dior, ho lavorato per Tom Hilfiger, ho lavorato per Technogym, a proposito di sport, e poi vari altri. Ottimo, ottimo. Perché hai voluto aprire il tuo canale di YouTube subito dopo? Cioè, quando l'hai aperto, perché hai deciso di aprirlo? Allora, è iniziato, l'ho aperto in realtà a 18 anni, 19, per poi lasciarlo lì per un annetto di riflessioni, e poi iniziare, ho iniziato circa due anni e mezzo, no, tre anni fa quasi ormai, a fare video, provavo qualcosa, e poi ho aperto il canale con cui oggi faccio i video, ma ecco, definitivamente, due anni fa, e ho iniziato con quello. Ho iniziato perché nel mio percorso, nel mio percorso di crescita personale, a un certo punto, se qualcuno si interessa di finanza, non puoi non imbatterti nel digital marketing, perché è l'occasione del momento, i social media, internet, eccetera, eccetera. Tutti ne parlano. E seguendo un certo imprenditore, che si chiama Gary V, magari qualcuno lo segue, magari in cui parla proprio di contenuti, e fare un sacco di contenuti, ho deciso, beh, sono qua a fare questo percorso, magari qualcuno può essere interessato, documento la mia vita, e continuo a documentarla sui social, e poi chi mi vorrà vedere, mi vorrà vedere, e poi magari se un giorno diventerò famoso, comunque mi piacerà tornare a rivedere il mio percorso di crescita. e quindi ho iniziato a pubblicare dappertutto. E' bello di questa cosa qua, ovviamente tu hai iniziato da due anni, io ho iniziato da due o tre mesi neanche, io vedo già un minimo di miglioramento rispetto a quello che era all'inizio. Non immagino te rivedere magari i tuoi primi video, dici, cazzo, ma sono una persona completamente diversa rispetto a due mesi fa. Mamma mia. Se guardi, se vai anche sul mio canale e vedi il primo video, e poi guardi l'ultimo, sono due persone completamente diverse. A parte che se guardi il mio primo video, non ho idea del perché, ma ero anche senza maglia. Proprio dal nuoto, dici, devo sfoggiare il fisico. Ho una mentalità un po' strana, un po' diversa all'inizio. Io non ho ancora superato la parte quella post-allenamento, post-nuoto, e sei nella fase in cui ingrassi facilmente. Io sono ancora lì da un paio d'anni a sta parte, dunque. E i tuoi video, per chi ovviamente non ti conosce, sono esclusivamente quasi... È la parte che è importante. Oh, vero, vero. Dicevo, nei tuoi video, principalmente, dimmi se sbaglio, la maggior parte dei video sono in inglese. Perché hai deciso di fare questa cosa, approcciarti più al mondo inglese, piuttosto che a quello italiano? Allora, in realtà, all'inizio non c'era nessun motivo. Semplicemente io, quando ho sempre utilizzato YouTube, l'ho sempre guardato, fin da quando sono piccolo, e mi è sempre piaciuta di più la community inglese di quella italiana. Quindi non ho mai avuto... Non so, non ho mai seguito in realtà tanti YouTuber italiani. E quindi automaticamente, quando ho acceso la videocamera, l'iPhone, per fare il mio primo video, all'epoca, due anni fa, automaticamente mi è venuto da provarci in inglese. e ci ho provato in inglese, hanno dato abbastanza bene da me la socavare, e quindi ho detto, sai cosa, ci provo, e mal che vada, è anche un... comunque sforzarsi di provare a parlare in inglese davanti alla videocamera, è sicuramente un allenamento. Se vorrò andare negli Stati Uniti a diventare qualcuno, allenarmi davanti alle videocamere in inglese tutti i giorni può essere molto d'aiuto, quindi è anche un allenamento personale. E poi l'audience globale confronto a quella locale è un'altra cosa, insomma. Quanti iscritti hai? 21.000, mi pare, una cosa del genere, 20.000. Allora, in questo momento su YouTube sì, dovrei essere... Guarda, te lo dico subito al volo perché non... Il live. Non guardo... 24.739. Eh, ok, dunque hai dei numeri, hai numeri, hai numeri, e questo tuo imparare l'inglese, cioè, come hai detto che hai studiato il linguistico, giusto? Hai fatto il linguistico, hai detto, ok, voglio farlo in inglese. Come ti sei approcciato effettivamente? Cioè, è una cosa che ti viene naturale oppure hai dovuto veramente studiarci su tanto per imparare l'inglese? Guarda, ti dico una cosa, in realtà, secondo me, ho fatto anche dei video su YouTube in italiano perché in realtà due terze dei miei contenuti sono in inglese, uno è in italiano, quindi due video su tre settimane che faccio uscire sono in inglese e uno comunque in italiano, lo sto tenendo in italiano. E ho fatto uscire un video in italiano in cui spiego come ho imparato l'inglese da casa e è andato benissimo. Penso che sia anche il mio video più visto o uno dei miei video più visti. E quindi ogni giorno ricevo persone su Instagram che mi chiedono come faccio, come faccio a imparare l'inglese, eccetera, eccetera. E io rispondo sempre che in realtà l'inglese è molto sottovalutato nella nostra testa con fronte, cioè noi pensiamo di non saperlo, ma in realtà fino a quando siamo piccoli siamo sempre stati circondati dall'inglese in tutto. Quindi anche se non ce ne accorgiamo con un po' di impegno, se ci si impegna a parlare un po', in realtà l'inglese lo sappiamo. Se uno ha fatto a scuola una scuola italiana normale dalla terza elementare penso si... Anche dalla prima mi parla l'inglese. Quindi contare tre anni di media e cinque anni di alimentare è solo questione che uno non l'ha mai messo in pratica, ma quando inizi a metterlo in pratica se vai all'estero lo metti in pratica per dieci giorni ti accorgi che sai formulare frasi senza nessun problema. Quindi è solo questione di metterlo in pratica. E poi aiutano comunque a ascoltare video su YouTube, libri, io i libri dato che leggo libri di crescita personale sto continuando a farlo e continuerò a farlo per sempre invece che prenderli in italiano prendo due piccioni con una fava e li prendo in inglese quindi imparo due cose contemporaneamente. E quindi in realtà sommergersi in un ambiente inglese sicuramente aiuta. Ovvio. Non so se hai visto uno dei miei video appunto dove parlo su come imparare l'inglese anch'io però io lo faccio tra virgolette senza fare niente. Cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che semplicemente io mi metto le cuffiette e ascolto podcast per cinque, sei, sette, otto, dieci ore al giorno potenzialmente. Ok? È una cosa che potrebbe l'ascolto passivo. L'ascolto passivo. Cosa ne pensi te di questa cosa? Secondo te può funzionare o è una merda va cambiato? No, allora tutto può funzionare. Qualsiasi cosa può essere d'aiuto sicuramente. secondo me con un'ora di esercizio al giorno fatta bene anche mezz'ora di esercizio attivo magari puoi ridurre un po' di esercizio passivo e non usare tutte quelle ore per esercizio passivo e invece magari provare a inserire una mezz'ora di esercizio attivo e ti accorgerai quanto in realtà è solo questione di metterlo in pratica perché te l'ho detto passivo secondo me va a livello di subconscio ma il subconscio è qualcosa che noi l'inglese secondo me è già inserito in qualche modo tra canzoni tra video che ogni tanto si ascoltano tra la scuola quindi in realtà secondo me è solo questione di farlo uscire e imparare a gestirlo consciamente quindi con l'attivo quindi mettersi lì 8-9 ore vuol dire che lo ascolti mentre no no durante la giornata mentre lavoro potenzialmente cioè molto spesso mentre lavoro magari sto facendo qualcosa al computer cose del genere ho le cuffiette su e ascolto semplice se devo prestare attenzione vado ad ascoltare se devo prestare attenzione vado ad ascoltare altrimenti non ascolto quando mi viene ad ascoltare ascolto Gary Vee ascolti Tony Robbins Tony Robbins no ascolto Jordan Jordan Belfort che è un grande secondo me mi piacciono un sacco i suoi podcast è quello di The Wolf of Wall Street ok ok è il proprio il vero ok ok ho capito mi piace molto perché è un venditore di quelli belli pesanti e allora mi piace molto poi sì Gary Grant Cardone tanti ne ascolto parecchi in realtà continuo a cambiare capelli ti consiglio un podcast eccezionale in inglese vai aspetta un secondo ti consiglio un podcast eccezionale in inglese che è il De Marco Delia Podcast che è proprio l'apice è in inglese è in inglese sì in realtà ho iniziato a inserire da poco qualcosa in italiano ma soprattutto in inglese ottimo ottimo invece capelli consigli su chi vuole far crescere i capelli come i tuoi non fate nuoto e nuoto lo viene i capelli concordo no allora in realtà non lo so anche lì è uno dei miei video sempre andati migliori anzi quello penso che sia il mio video andato meglio con cento e passamila visualizzazioni anche non lo so quante e quindi ogni tanto mi approfitto per fare qualche video sui capelli per raccattare qualche views e qualche iscritto però in realtà io non ci do così tanta attenzione come sembra ho semplicemente i capelli lunghi ho cercato dei vari metodi su come farli crescere e su come averli come tenerli bene come tenerli in modo decente e quindi tutte le cose che imparo come qualsiasi altro video le raccolgo e le insegno anche ai miei ai miei seguaci quindi che brutto dire seguaci se c'è qualche consiglio che vuoi chiedermi è venuto quella beh io io adesso ti dico la verità sto cercando di farmi crescere i capelli infatti non li taglio da tanti mesi e non dico che voglio arrivare al tuo livello però lunghetti abbastanza lunghi d'accordo beh io non li ho mai avuti così lunghi io li ho sempre avuti circa altezza mi ricordo mi ricordo sul collo ma mai così tanto lunghi no ti dico per farli crescere basta semplicemente tenerli bene poi ci sono delle tecniche per farli crescere un po' più velocemente ma non si ottengono cioè non va a miracoli diciamo che uno massimo tre centimetri al mese è più che più che possibile ma poi insomma non riesce a far crescere i capelli da così a così in un mese ecco ovvio ovvio però sì c'è l'idea di farli crescere perché mi sono sempre ho sempre avuto i capelli corti per tutta la mia vita la scorsa quarantena ho detto beh mi sono fatto crescere la barba dunque avevo un bel barbone l'anno scorso ho detto beh ma l'anno prossimo posso farlo con i capelli e allora l'ho iniziato a farlo con i capelli adesso non li taglio da almeno a te che ti fai la barba ci ho provato ma questa qua è l'unica cosa buona tra virgolette allora un'altra domanda che volevo farti nei tuoi video ho notato molto che mediti fai tutte queste cose abbastanza pratichi questa cosa principalmente meditare fai molte cose hai varie routine testi varie routine perché cioè che consigli daresti anche in questo in questo ambito qua vedi se inizi a leggere qualche libro di crescita personale noti subito con crescita personale io intendo in realtà qualsiasi argomento che passa dalla finanza personale alla spiritualità a qualsiasi cosa che riguarda il migliorarsi partire da qui migliorarsi per poi quindi tutto il resto attorno a sai migliorare a propria volta se inizi a leggere qualsiasi libro di crescita personale ti accorgi subito che le persone che sono arrivate a un certo livello di successo successo può essere non solo ricchezza abbondanza fama può essere anche questione di felicità stare bene serenità o anche semplicemente a livello di fisico noti subito che la prima cosa che la gente inserisce che queste persone hanno inserito è un certo tipo di routine un certo tipo di costanza in quello che fanno e quindi io quello che ho fatto è semplicemente all'inizio copiare delle routine da persone di successo quindi mi sono messo a meditare perché vedevo che tante gente ricca meditava che faceva tanta gente faceva yoga tanta gente faceva scriveva un diario tutti i giorni su come ci si sente su quello che fa i miglioramenti eccetera eccetera ho iniziato a fare tantissime cose anche l'allenamento l'allenamento tutte le persone di successo comunque si tengono in forma una dieta sana eccetera eccetera però non l'ho mai fatto dato che lo copiavo lo facevo ma senza consapevolezza non sapevo in realtà il perché lo stavo facendo quest'anno invece anzi dall'anno scorso da quando è iniziata la pandemia mi sono fermato un attimo ovviamente tutti si sono fermati ma ero negli Stati Uniti sono tornato in Italia sono tornato e in quest'anno di di pace e tranquillità mi sono messo lì ho fatto tante cose che volevo fare e quindi mi sono ricreato tutte le mie routine e per la routine di yoga e imitazione ho voluto provare ad approfondire l'argomento quindi ho trattato ho iniziato a studiare argomenti di spiritualità cosa che io non avevo mai considerato prima mi sembravano sempre sei come tutti i ragazzi più o meno in Italia la religione la chiesa sono tutte cose un po' strane tutte cose un po' particolari anche cose esoteriche non so il misticismo lo yoga sono tutte cose un po' particolari difficili da trattare però ci tenevo a provare insomma ad approfondire se poteva aiutarmi a migliorare come persone arrivare a un passetto più vicino ai miei ai miei ai miei ai miei e quindi ho provato e ho iniziato ho scoperto un mondo incredibile ho scoperto che in realtà nella spiritualità tutto è collegato tutto quello che abbiamo studiato fino a quando siamo piccoli la scienza la filosofia tutto 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 nel mondo della spiritualità sia occidentale che orientale quindi anche la nostra religione tutto sotto forma di un metodo di comunicazione diversa quindi non è spiegato come la scienza a livello logico che ti dice questo funziona così ma ha spiegato in modo un po' più metaforico un po' più parabolico un po' più a parabola ecco in realtà tutto è spiegato e anche come funziona l'essere umano e quindi diciamo che ho iniziato questo percorso di crescita interna questo percorso di crescita di yoga ho guardato un po' le varie religioni i vari metodi le varie cose e ho notato che alla fine tutto quello che è spiritualità si viene impacchettato e incluso nello yoga lo yoga non è semplicemente quello che vedi non so le donne che fanno gli esercizi in palestra quello è una branchia dello yoga molto piccola ma in realtà lo yoga è proprio spiritualità al cento per cento è quelle religioni orientali in cui vedi i santoni oppure i buddhisti oppure vedi i tibetani tutte le religioni orientali che in realtà poi hanno anche portato alle nostre religioni a tutte le conoscenze che abbiamo noi sono partite tutte da quest'unico ceppo che si chiama viene chiamato yoga ma in realtà è proprio spiritualità in generale spiritualità è partito percorso dunque che consiglio daresti a una persona che si deve proprio buttare in questo mondo in questo ambito deve iniziare a meditare deve iniziare a studiare magari dei libri su questo ambito sullo yoga in particolare adesso stavamo parlando di questo anche allora secondo me allora lo yoga e la spiritualità in generale è proprio una questione di crescita interna da quello che ho notato e sto notando nella mia vita si può lavorare tantissimo sul mondo esterno ma è difficile che sia sempre come lo vogliamo noi quindi soldi fame eccetera eccetera invece quando si lavora qui dentro si riesce a almeno averlo più o meno come lo vogliamo noi e quando qua dentro tutto va come vuoi tu fisico mente eccetera eccetera corpo mente tutto poi pian piano fuori inizi a vedere che tutto tutto inizia a riequilibrarsi anche lì quindi in realtà è molto utile anche semplicemente per un fattore di crescita personale poi si può arrivare a un livello di spiritualità estremo quindi proprio liberazione si trattano argomenti molto particolari che non sto neanche qui a coprire ma se si vuole semplicemente anche solo star bene star bene stare in pace vivere serenamente non essere in continua foga di sempre qualcosa in più sempre qualcosa in più che io prima ero così star bene così stando seduto come sono essere felice essere contento e poi comunque raggiungere i propri obiettivi quello si può fare benissimo e io consiglio un guru consiglio di trovare qualcuno che insegna a farlo ognuno può trovare il proprio guru come te magari in finanza personale segui Gary Vaynerchuk non riesci a è difficile imparare da solo alcune cose è meglio sempre avere qualcuno di esperto che ti guidi soprattutto nel mondo della spiritualità è sempre meglio trovare qualcuno che ti sappia guidare il mio guru è un guru conosciutissimo online è quello più famoso si chiama Sadhguru è un guru indiano e lui parla di spiritualità e crescita interna ho capito qual è ho capito qual è e dunque tu oltre a questo ovviamente questa è una parte della tua routine dunque dedichi ogni singolo giorno un'ora immagino per te stesso o meno o di più come ti giostri la tua giornata com'è una tua routine mettiamola in questo modo una strutturata allora mi stai facendo domande a cui io sto veramente sforzandomi di tenerle corte perché non voglio che questo video venga troppo lungo e ho fatto miliardi di video su tutte le mie routine una mia routine tipo è basata al 90% solo sulla mia crescita quindi conto è che io il 90% della mia giornata è basata sulla mia crescita personale ok il restante 10% sul documentarla e quindi quello che chiami carriera beh sto spingendo le persone ad andare all'interno del tuo canale youtube andare a vedere tutti i tuoi video sulla meditazione sulle routine sui capelli un po' tutto dunque mi raccomando è sempre marketing anche questo infatti poi ti dico in realtà all'inizio quando avevo iniziato a leggere vari libri ho iniziato a leggere anche libri di produttività che ti insegnano proprio a gestirti e crearti le tue routine e essere super organizzato e quindi nel momento in cui poi impari a gestirti comunque le tue routine un libro che consiglio il potere è bravo esatto ce n'è un altro che io ho letto si chiama getting things done ok ho presente ho presente ma non ce l'ho se ci sia però è molto è molto conosciuto e ti insegna proprio un sistema anch'esso per essere super produttivo e quindi nel momento in cui impari a avere un sistema del genere quindi è il primo libro che io consiglio sempre è sapere essere organizzati poi io la mattina mi alzo mi alleno faccio dedico un po' di tempo allo yoga alla meditazione adesso che sono consapevole di quello che sto facendo e che ha un obiettivo e poi al mangiare bene a fare video su youtube a continuare a scrivere mail per collaborazioni per trovare nuove opportunità per vari progetti sto anche cercando di aprire un'azienda in questo momento quindi sto lavorando anche sull'azienda tutto basato sulla crescita insomma azienda di cosa? ho una piccola passione se puoi notare qui dietro ho una piccola passione per i profumi e per quindi ho iniziato a fare vari video sui profumi un'azienda mi ha contattato tempo fa offrendomi un contratto e stiamo cercando di costruire un'azienda di profumi insieme non un profumo da comprare ma è un servizio quindi sarà basato sulle aziende di profumi insomma è un po' un po' particolare ok ok ottimo ottimo ci sta come idea ci sta e allora il mio canale principalmente per chi mi segue dei miei follower sa perfettamente che parla mindset business io ho un'agenzia di social media marketing e parla principalmente di queste cose qua ok che rapporto hai tu con gli investimenti cioè che tipologia di investimento fai oltre vabbè al personale che è quello che è più è il più evidente diciamo così investimenti intendi a livello finanziario anche anche se ti stai muovendo in quell'ambito oppure sei fermo negato e dici no io voglio solo investire su me stesso e basta allora dopo in questo momento diciamo che a livello finanziario sono organizzato e sto investendo quindi dal punto di vista di entrate ho un budget quindi gestisco semplicemente il denaro e parte delle mie entrate le investo in etf non so se conosci investo semplicemente in borsa a lungo termine come consiglia il buon Warren Buffett standard in pool 500 a lungo termine per 30 40 anni ogni mese metto un po' di soldi e andranno a crescere sperando in qualcosa di grosso cripto un piano accumulativo cripto in realtà non ancora ma mi sto informando tantissimo in questi giorni perché voglio iniziare assolutamente meglio tardi che mai sto ho già i soldi messi da parte ho già anche i miei miei amici che mi stanno dando consulenza sto solo cercando di capire qual è il broker giusto qual è la piattaforma giusto Binance o Com eccetera a me hanno consigliato Binance dunque potrebbe essere secondo me è un buono è quello che un po' va di più sì Coinbase sto proprio guardando adesso prima di fare la chiamata con test avevo proprio cercando di concludere e capire qual è il broker giusto per farlo ma ho visto che stanno facendo stanno inserendo i bitcoin anche in etf come etf quindi se si può investire in etf anche le criptovalute così quasi magari aspetto un attimo ottimo ottimo la questione finanziaria è quello invece verso i soldi li investo in libri mi piace molto leggere secondo me leggere è importantissimo se si vuole crescere in qualsiasi punto di vista e poi tanti soldi li metto via cerco di non avere spese cerco di avere meno spese possibili e di mettere via la maggior parte dei miei soldi ok dunque hai diciamo così vai a percentuali hai una percentuali per le spese una percentuale di investimento una percentuale di questo una percentuale di quello giusto? non sei non sei uno spendacione che uno non sei uno di quelli che appena hai i soldi in mano li va a spendere no no ancora finché non riesco a trasferirmi sono ancora qui con i miei quindi diciamo che le mie spese sono quasi pari a zero quindi mi sto approfittando di questa cosa per mettere via più soldi possibile e progetti per il futuro ne hai? stai già programmando qualcosa? ho visto uno degli ultimi video dove dicevi che probabilmente vai negli Stati Uniti dimmi se sbaglio magari faccio conta che fino a poco fa fare fare piani per il futuro e obiettivi è sicuramente importantissimo quindi fino a poco fa conta che la mia vita era tutta pianificata da da dieci da cinque dieci quindici anni a questa parte era tutto già pianificato adesso invece che ho fatto questo percorso un po' più interno mi sto accorgendo che va bene pianificare fare obiettivi però bisogna anche viversi un po' più la giornata come un essere umano non sia una macchina alla fine bisogna comunque contare tanti fattori e quindi diciamo sto un po' più gli obiettivi ci sono i piani ci sono però diciamo che invece che andare dritti così sto mi godo la vita nel mentre che alla fine ho notato che è anche la via migliore anche proprio essere sereni e tranquilli mentre si va verso gli obiettivi è anche la cosa che in realtà ti fa arrivare ancora più velocemente a quelle cose quindi non essere sempre in foga e ansia di arrivarci gli obiettivi in realtà stavo ancora prima della quarantena stavo cercando di trasferirmi negli Stati Uniti a Los Angeles perché nelle cose che ho fatto nella moda ho fatto dei vari concorsi a livello internazionale e ogni ragazzo che si presentava rappresentava un paese io rappresentavo l'Italia e quindi ho conosciuto tanti ragazzi da varie parti del mondo ovviamente e uno di questi ragazzi che veniva dall'Honduras mister Honduras lui fatalità lavora come attore ad Hollywood ed è una cosa che io ho sempre voluto provare a fare e quindi ho iniziato recitazione e sono andato là per un mesetto circa e stavo organizzando tutte le carte per trasferirmi sono dovuto tornare per il lockdown però il piano il primo piano è quello sicuramente di andarmene via adesso è subentrata l'azienda quindi un piano è anche continuare con l'azienda e magari investire e cercare di crearmi un po' di libertà finanziaria che mi permetterà di avere una buona carriera anche nel mondo della recitazione o della moda quindi intanto quello che sto facendo è continuare a migliorarmi finché si può appena si riapre tutto spero di avere un potenziale abbastanza alto che ho accumulato in tutto questo periodo a casa e sto facendo mille corsi recitazione ballo canto primo soccorso dizione qualsiasi cosa possibile esiste in questo piarete le sto facendo adesso per così per essere pronto così quando si riapre sono pronto e quindi magari avere un po' di libertà finanziaria così poi da poter investire e continuare sempre nel mondo dello spettacolo ottimo mi piace mi piace bei progetti bei progetti dunque l'US tra virgolette il tuo obiettivo è trasferirti là a provare ad andare là a fare recitazione e ovviamente ti auguriamo il meglio adesso è una domanda un pochino deep profonda cos'è per te il successo vai allora il successo in generale se io intendo dal mio punto di vista il successo in generale quindi racchiudendo il tutto si può riassumere in libertà si può riassumere in libertà che può essere libertà finanziaria quindi non avere potersi permettere di fare un po' quello che si vuole con i soldi quindi non dover per forza lavorare e non essere libero comunque guadagnare una certa cifra anche non esageratissima ma una certa cifra e potersi muovere quindi i soldi al giorno d'oggi anche se uno non ne vuole parlare bisogna per forza considerarli insomma sono molto utili sono la chiave che ti porta a essere libero di fare quello che ti piace quindi sicuramente libertà finanziaria sicuramente libertà di potermi muovere dove voglio il fatto per cui io parlo inglese nei miei video è anche perché io non mi considero ho questa idea di non considerarmi come cittadino italiano ma secondo me pian piano si arriverà a considerarsi tutti un po' più cittadini del mondo quindi non avere questi confini limitati da dire ok sono italiano e abito in Italia preferirei starmene un po' qua un po' là insomma c'è un mondo intero da vedere quindi muoversi sicuramente andare in giro dove mi pare quella sarebbe una buona cosa e poi io in realtà anche se non è assolutamente necessaria c'è gente che la odia e gente che invece a cui piace gente a cui da fastidio a me un po' di sana fama non mi dispiace quando sono stato in televisione o quando sono stato a vari concorsi un po' di fama mi ha sempre fatto piacere finché non è una fama trash finché non è data da cose tipo non so televisione trash come il grande fratello o altro finché è fama data da qualcosa di buono quindi spargere una parola buona aiutare gli altri eccetera eccetera quella sicuramente mi fa mi farebbe molto piacere anche perché ti dà la possibilità di incontrare gente che insomma con un certo spessore e quindi io la mia idea di successo è questa insomma libertà finanziaria un po' di fama poter girare e comunque serenità che in realtà è una cosa su cui già sto lavorando quindi con lo yoga e con la meditazione quindi star bene essere felici cercare di aiutare gli altri so che sembra un cliché ma in realtà ti accorgerai pian piano e me ne sto accorgendo molto anch'io che aiutare gli altri alla fine è l'unica cosa che conta che ti fa veramente star bene che non è qualcosa che la fai e poi ne vuoi sempre di più aiutare gli altri proprio alla fine è la cosa che veramente ti piace che fa star bene le persone e basta cercare insomma di portare a questo mondo un passettino un po' più in là per quanto una persona singola può riuscirci giustamente giusto va buono grazie mille Marco ti ringrazio tantissimo quanto sarà durato 40 minuti di chiacchierata mi ha fatto veramente molto piacere risentirti perché ovviamente non ci sentivamo da parecchio tempo e niente ti ringrazio ancora saluta pure i nostri amici follower grazie mille grazie mille di tutto è stato un piacere anche per me spero non sia stato troppo lungo e ci tenevo anche solamente a dirci che si va bene tutte queste cose di successo eccetera ma anche alla fine un obiettivo che deve essere parte di tutti e noi col nuoto ne sappiamo benissimo e quindi siamo avvantaggiati che alla fine un bel corpo e anche che sta bene un bel corpo in salute anche quello deve essere un obiettivo di successo quindi grazie mille per avermi invitato e grazie a te e ciao a tutti ragazzi grazie mille ciao a tutti ragazzi ciao ciao